Le ninfè sono una serie di dipinti a olio su tela realizzati da Claude Monet tra il 1897 e il 1926. I soggetti di queste tele sono le ninfè del laghetto artificiale che Monet fa scavare vicino alla sua casa di Giverny sulla Senna. E' quello che il pittore chiama giardino acquatico. Nei primi quadri lo stagno è attraversato da un piccolo ponte di legno in stile giapponese. Le ninfè galleggiano sulla superficie dell'acqua dove si riflettono salici, pioppi e glicini. Lo stesso soggetto viene rappresentato da angolazioni leggermente diverse, in varie ore del giorno, in differenti stagioni e con una luce sempre differente. L'intento è quello di dare ogni volta una nuova impressione visiva. Nelle opere successive Monet restringe progressivamente il campo di osservazione, escludendo tutto quello che fa parte del paesaggio intorno allo stagno. L'ambiente circostante è rappresentato ormai soltanto nel riflesso che lascia sull'acqua. Dal 1914 al 1918 circa, Monet porta a termine un imponente ciclo di ninfèe. Alcuni dipinti, destinati all'orangerie di Tuileries, sono un dono dell'artista allo Stato francese per celebrare la fine della Prima Guerra Mondiale. Lo stesso Monet collabora al progetto di ristrutturazione di due grandi sale ovali dell'orangerie. La sua intenzione è creare un ambiente continuo dove le pitture, disposte su immensi pannelli incurvati, avvolgono lo spettatore immergendolo in un tripudio di luce e colore. Il pittore decide anche quale sarà la disposizione delle opere, dalle quali però rifiuta di separarsi. Saranno esposte solo nel 1927, dopo la sua morte. Nelle ninfèe dell'orangerie, Monet va oltre il tentativo di riprodurre le impressioni visive che caratterizza le prime versioni e approda a uno stile che tende all'astrattismo. Acqua e cielo si mescolano, le forme si dissolvono sciogliendosi nel colore e ogni riferimento spaziale è definitivamente scomparso. Tra il 1920 e il 1926, Monet continua a dipingere lo stagno di Giverny, riprendendo anche lavori già terminati o rimasti incompiuti. Il tema delle ninfèe lo accompagnerà fino alla morte. Le sale dell'orangerie sono state definite la cappella sestina dell'impressionismo e vengono considerate il culmine dell'arte di Monet. Gran parte del ciclo delle ninfèe è esposto a Parigi, all'orangerie des Tuileries, al musée Marmotton e al musée d'Orsay. Grazie a tutti.